E' un'altra cosa. Sì, è vero. non è un gioco, non è un gioco si mettono a me, fate GILIA Buongiorno, ieri, 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 ieri... Non ti domozionare la mia laurea, ma dire il mio dio! Non lo capisco Non lo troverò, non lo troverò più E la cosa è successo Sì! Cosa c'è? Sì! E' la mia laurea! Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.